L'investimento nel comparto turistico diventa oggi strategico. Per il ministro Michela Brambilla rappresenta un'occasione per superare il difficile momento economico. Sono scelte strategiche necessarie perché in un momento in cui il comparto produttivo manufatturiero è purtroppo infrenata, come nella congiuntura attuale, diventa fondamentale puntare sul turismo per un rilancio e un sostegno alla nostra economia. Bergamo ha così tutte le potenzialità per uscire da quello che il ministro ha definito l'immobilismo turistico degli ultimi anni. Il turismo è una grande opportunità per garantire una produzione di ricchezza, di risorse in tempi brevi e garantire anche un conseguente incremento occupazionale. E siccome Bergamo e la provincia di Bergamo hanno avuto in dote grandissime ricchezze, grandissime bellezze dal punto di vista artistico, culturale, monumentale. Quindi occorre una strategia, una politica di promozione, di sostegno di questo comparto perché Bergamo finalmente esca da questa situazione di immobilismo che l'ha vista purtroppo in questi ultimi cinque anni e perché la provincia trovi una valorizzazione piena e ottimale. Chiara ha inoltre la posizione sul fronte della sicurezza. La politica permessivista della sinistra che ha fatto sì che il nostro paese sia stato preso di mira da un'ondata di immigrazione clandestina negli ultimi due anni senza quartiere ha portato alle situazioni in cui oggi ci troviamo. È diventato quindi necessario arrivare a definire il reato di immigrazione clandestina e la sicurezza delle nostre strade sarà sempre più garantita da uno stato presente.